Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo gameplay di League of Legends Oggi ci troveremo in una partita, in una normal In compagnia di LeBlanc in mid Ho ricevuto parecchie richieste per LeBlanc mid Ora non si utilizza più LeBlanc mid perché le hanno tolto il silence Però chi se ne frega, tanto io non la sapevo usare prima, non la so usare nemmeno adesso Quindi sarà divertente vedermi esplodere contro Ari e vabbè Allora il nostro team sarà composto da Vayne, Brom, Bot, da Mecha, Aatrox, Top Lissin in mid e io nei panni di LeBlanc in mid No ho detto Lissin, no Lissin in jungle, ecco io nei panni di LeBlanc in mid Contro Ari mid, Chogat, Top, Miss Fortune, Trash, Bot e Kha'Zix in jungle E boh niente, LeBlanc prima era uno di, forse il mid laner più usato l'anno scorso A livelli alti, ma anche si trovava spesso in normal così Adesso no perché non penso che le abbiano tolto i danni Non lo so che cosa le hanno fatto, non ho mai tanto usato LeBlanc, anzi non l'ho proprio mai usata Però so che le hanno tolto dalla Q il silence Ed era esattamente ciò che la rendeva OP in mid Perché ovviamente un silence in mid ti rende distruttivo al massimo L'hanno tolto anche a Cassadin infatti Perché Cassadin ovviamente non lo prendeva mai nessuno Perché era sempre bannato Adesso è bannato ancora perché fa ancora un po' di danni Però non avendo più il silence Poi l'hanno nerfato ancora di più, poverino, mi spiace E la stessa cosa hanno fatto LeBlanc Infatti in questo momento il mid laner più forte è Talon Quindi usate Talon, compratelo e usatelo Perché? Perché è un AD da mid, un assassino da mid Che ha ancora il silence E quindi è semplicemente devastante Non so cos'altro dirvi se non cominciamo la partita Allora LeBlanc è il classico personaggio Entro, t-shot, esco E non mi trovi nemmeno se cerchi mezz'ora Perché ti frego Io ovviamente non sono capace di giuccare con questo champion Ma ci proverò Anche perché io ho questo problema Che molte volte per far partire un'abilità Non me ne accorgo ma nemmeno Cioè non lo faccio apposta però lo faccio Premere tante volte sul tasto Che su LeBlanc è assolutamente distruttivo Perché la W è un teletrasporto Che poi può riportare in un secondo tempo Le Blanc al punto in cui era all'inizio Se si preme una seconda volta Quindi se io lo faccio velocemente E premo due volte Vado e torno E magari dovevo continuare a inseguire Quindi Probabilmente lo vedrete Spero di no Però so che potrebbe succedere Allora Sì vedete la Q adesso Non so se No non penso abbiano tolto i danni Dalle Blanc Perché il Blanc Se toglie i danni Cosa ne rimane Non ha senso Quindi penso che Che l'unica cosa che abbiano cambiato Sia appunto questa cosa qui Beh la R non ha costo Ecco Prima mi ricordo una volta aveva Livello 1 costava un po' Livello 2 costava un po' Al terzo livello non costava niente Invece adesso non costa niente sempre E mi piace parecchio Comunque vi illustro se volete Un attimo l'abilità La passiva quando La vita di Blanc scende sotto il 40% Blanc diventa invisibile per un secondo tipo E poi Torna ad essere visibile Ok ottimo Torna ad essere visibile Con un suo clone Che puoi controllare Ed è per questo che si fanno i juke Con questo esempio Si fanno così La Q è un'abilità Uuuu Arrivo Uff buono La Q è un'abilità Che è un'abilità target Lancia un Marchio agli avversari A un avversario Che infligge danni E applica appunto Questo marchio Un'altra abilità Di Leblanc Libera il marchio E fa gli stessi danni Che ha fatto all'inizio Quindi duplica i danni E' un'abilità E' un'abilità E' l'abilità Che le permette Di shottare Le persone Cioè I personaggi Più o meno squishy No? Aia Quello non riuscirò a prenderlo Piuttosto Cioè purtroppo Nope Aia Vabbè sta usando il mana Beh vabbè ovviamente mi sta colpendo Quindi mi fa parecchio male Non mi aspetto di vincere contro Ari Perché Ari in questo momento È davvero un mid laner molto forte Io ho i danni però A parte che non la so usare Ma assolutamente Ma ok Ovviamente vedete Faccio dei danni immensi Fottutamente giganti Però non avendo nemmeno più Oh fuck Peccato Non avendo nemmeno più il silence Cioè immaginatevi Erano tre secondi di silence Forse o due Cioè era una cosa imbarazzante Tu ti lanciavi dentro E il marchio Oltre a proccare Quei danni lì immensi Proccava anche Quell'effetto lì Questa cosa qui Adesso non più Purtroppo però Oh È inseguito da Kha'Zix Eh non posso salire figliolo Non posso davvero Ah Eh infatti non l'ha visto Eh infatti Dicevo Oh mi sta chiedendo Di venire in aiuto Ma non potevo Oppure Non se ne è accorto Non se ne è accorto appunto Vabbè La Q è quella Poi la W me l'avete già vista usare Teletrasporto Che fa danni Ad area Eh e poi Può riportare indietro Eh la E È uno skillshot Lancia una catena Che fa danni in AP Ovviamente E slowa E dopo Un tot di tempo Eh Morta Yep Ok dopo un Dopo qualche secondo Eh Dopo quanti secondi Dopo un secondo e mezzo Si apre anche qui Una specie di marchio Comunque Tipo una roba alla karma Ti blocca semplicemente E ti fa degli altri danni Eh La R è l'abilità più importante Di questo champion C'è più Non più importante Ma Quella che la rende Le blank In poche parole E Ed è il Il mimic Si chiama no? Sì mimic Non costa mana Mima Cioè ripete L'ultima abilità Che le blank Ha fatto Quindi è un'ottima abilità In effetti Perché si possono fare Si può fare Q Q E aprire due volte la Q E ripiantare un marchio Oppure fare W W Per coprire più Più spazio E fare altri juke Ancora più Più potenti Oppure Tutte queste cose Si possono fare Quindi un'ottima abilità Sia per Burstare Sia per scappare Oppure si possono fare due catene Magari sullo stesso Per tenerlo bloccato Mezz'ora Oppure su due nemici diversi Per Bloccarli entrambi Ovviamente la E Non è facile da lanciare Però si può fare E E fanno più danno? No non lo so Adesso come sia Prima Facciano lo stesso danno Forse Non lo so adesso come sia Scusate adesso Non posso leggere Però Vedo che questa Ha perso davvero molta vita Quindi Adesso che ho livello 6 Questa dovrebbe essere Penso morta Yep Ok avete visto Ho fatto la doppia Q Ho aperto il marchio Il secondo marchio Con Con la R Ovviamente C'è con la W Volevo dire Allora Si può maxare O la Q Per fare Dei danni ancora più grandi Di quelli che ho fatto prima Oppure Si può maxare la W Come sto facendo io Perché mi trovo contro Un'Ari Che Ha parecchio Wave Ha parecchio Wave clear E In questo modo posso Ripusciare indietro Perché fa danni ad area A questa mossa Ovviamente la Q La R Ha poco cooldown Rispetto ad altre R Vedete A 34 secondi Che poi va giù abbastanza Noi abbiamo Aatrox FK Non è più tornato Vediamo se riusciamo Non so se ha la R Se ha la R Lissina è morto Se non ce l'ha ovviamente No Morto Molto molto bravo Bravo Lissina Aveitato molto bene E Olè E dovrei anche andare mid Però Eh la Q Mi dimentico Perché l'ho usata Tipo una o due volte Le Blanc Tanto tempo fa E Non mi ricordo assolutamente Come si utilizzi Ehm Però Maxavo la Q Quindi ovviamente Sono abituato a fare Molti più danni Con la Q Attento Attento Stai molto attento Sei più forte Di lei penso Però Almeno se le fai usare La R Arrivo è morta Ok Quella è una kill Easy Se rimane E penso rimanga Perché ha le pozze Quindi si sente abbastanza No prendilo pure tu Visto che Avrei comunque bisogno No Ok Prendilo tu Prendilo tu Stai tranquillo Bot stiamo andando bene Stiamo andando tutti abbastanza bene Triple kill Ma che bravi Ma trovassi questi team Andiamo di fare un altro roaming top Molto bravi in bot Io sto arrivando di nuovo top Ovviamente ogni volta che uccido Ari Posso andare top Il primo oggetto che mi farò Sarà la DFG Perché Boh Perché è la DFG Quindi Addio No ci muore Ci muore No Non ci credo No Lissin Oh mio dio Lissin Oh mio dio Questa Lissin Mi piace questo team Stiamo prendendo un po' Abbiamo Iello star addirittura E' Reckless E' addirittura Vabbè Vabbè Ha provato a lasciarmi la kill L'ho vista Sì Non c'è problema Può prenderla semplicemente Ah ripenso sia bot Non vedo Sì Quella era la Q Quindi Bravo lì Oh fuck Allora Allora Kha'Zix Ha 3 kill Eh Signiamo che Kha'Zix Sta andando top Perché Sta andando top L'ho visto Ah no Non mi prenderete ma neanche Ok No è qui Stronk Ragazzi I danni di questo champion Attenti Allora sì Non è più utilizzata Ma non perché Non fa danni Perché i danni Sono sempre gli stessi Semplicemente Non fa Eh non posso venirci Non ho nemmeno mana Sai Ho 178 di mana E Comunque Ehm Vedete il wave clear Fantastico Che ha con questa W Adesso tra l'altro Torno E ho E avrò anche la cosa La La DFG Quindi sarà ancora meglio Purtroppo Non posso andare nemmeno top Perché Non ho davvero mana La combo costa abbastanza Le combo Adesso la R non costa male È vero Però Le altre mosse ovviamente costano male Quindi Farei la combo Qualcuno sa No Non lo so Qui ha fanatic Stads Che ovviamente non esiste Non penso sia uno di fanatic Sta giocando abbastanza bene Perché Sta andando in jungle Sta facendo molto Mica Quella Quella è forte 10 kill Ok Ovviamente i punti sulla R Diviniscono il cooldown Aumentano i danni Delle abilità copiate Lì sim si fa tutto Tac No no è colpa mia Lissin non è colpa tua C'è ho mancato tutto Eh non c'entra Ovviamente Signiamo che manca Questa è tornata Perché si sta vada Per la pelle del culo Tra l'altro è 0-4 Prendiamo la torre Ok Andiamo ad aiutare Avevo anche il DFG Mi sono totalmente dimenticato Andiamoci Andiamoci male Che io voglio il blu Pup ok Non volevo prendere io a Vayne Perché tanto io e Dani li faccio Vayne Ci carrierà in late E ok E' assurdo come stiamo vincendo Ragazzi Perché Siamo in 4 contro 5 E' davvero assurdo Ah Io non ho nemmeno usato il DFG Non mi sono ricordato Cioè stiamo distruggendo Stiamo davvero distruggendo Questi avversari Boom Godlike Che cazzo Ok Non avevo mana Per inseguirla Purtroppo I'm coming guys I'm coming Oh my god The damage Via 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 Non ho mana Via Aspetta però Non posso copiare la La R Che cazzo Ehi Ehi Quello io non gioco con le sit e io non gioco con le black ok 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 non si è neanche l'aspettavo ho fatto un'autoatta che lo voleva uccida tra l'altro ho 93 dia di questa 142 più il critico cioè è assurdo vabbè ovviamente non l'ho fatta apposta però tra le mie kill e le 6 kill facciamo un team quindi io ne ho 8 e le 14 no è un partito molto divertente sinceramente un ottimo team sono anche contento di caricare partite del genere perché almeno sono divertenti sono stomp si dice così cioè ehhh la madonna sto arrivando sto arrivando voglio il double buff holy scene disley 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 no 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 via 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 ok ah 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 ha fatto una roba in top prima madonna davvero bravissimo tra l'altro io ho davvero mi sto davvero divertendo è un ottimo team che scherza anche abbastanza tra l'altro siamo in quattro ragazzi ci siamo in quattro sto arrivando raga non vi servo penso si forse un po si oh fuck oh no ho preso quello piccolo c'è sembra oh mio dio ma che cazzo di partita è ah è assurda mi sto divertendo tantissimo si sta fidando lissina 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 è fuori lissina no non ha la r oh mio dio no ci sono ah ok no mi stavo divertendo così tanto no non ci credo che partita ragazzi vabbè votate commentate usate il blank perchè è up no scherzo e niente alla prossima ciao a tutti ragazzi ciao a tutti